Grazie 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 ma chi è il biscotto? ma ci va così se va bene le paglanta bella la camara se va a portare un arancione o via? arancione arancione mi cade il verde non c'è scritto 4.000 euro 700 euro 7000 euro 7000 euro non c'è scritto 4.000 euro 4.000 euro 1.000 euro 7.000 euro 2.000 euro dopo la tua 1.000 euro 1.000 euro come se reti b까? come se reti b remarks prima deve 2.000 euro un manta 4.000 euro sei Grazie. 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 Grazie.